Ben ritrovati, siamo qui oggi con il nostro Onorevole Simone Di Cagna Brescia, ex Sindaco di Bari, che dire di quello che sta succedendo in questi giorni, su questi nuovi personaggi perché sono dei personaggi politici che sono alla ribalta delle cronache e mi riferisco al Vice Ministro dei beni culturali e del turismo che ha l'Onorevole Buitoni che è del movimento Monti e che ha avuto l'idea brillante di dire agli organi di stampa, a tutto il mondo, che il cibo italiano è sicuramente inferiore e non può competere con quello francese. Allora io vorrei chiedere a questa Onorevole di avere un minimo di dignità e di dimettersi da quello che è l'incarico che gli è stato affidato, perché una persona che disprezza quello che invece dovrebbe pubblicizzare non può svolgere l'incarico per cui è stata questa chiamata. Dall'altra parte quindi di consegnare il passaporto al Presidente Napolitano e di farsi accompagnare dai carabinieri in Francia in modo che chieda asilo politico alla Francia, ma sicuramente non può rimanere nei confini della nostra patria. Lei che dice? Ma è strano innanzitutto per il nome che porta, perché Buitoni è un riferimento proprio diretto a quello che significa pasta cioccolato, perché la Perugina faceva parte del gruppo Buitoni. Ma io devo dire innanzitutto a Monte che questo governo... Buitoni è un'unità che pur vede nel suo ambito personaggi di rilievo, ha anche personaggi di scarso livello politico e anche amministrativo operativo. Probabilmente la Vice Ministro Buitoni è una di queste, perché proprio nel momento in cui dobbiamo parlare di rilancio, occupazione, produzione, credo che la realtà della produzione italiana sotto questo aspetto proprio del cibo o comunque di tutto ciò che è attorno al cibo e alla tavola ruota, dovrebbe essere un plus per l'Italia, è anche stabilito che nel comparto globale del turismo italiano, quindi dell'oltre 60% dei beni che esistono al mondo, credo che la ristorazione o comunque il prodotto italiano, dal prosciutto al parmigiano al vino, svolge un ruolo particolarmente importante, cioè i turisti vengono in Italia non soltanto per vedere le bellezze naturali o monumentali, ma certamente anche per mangiare italiano. Con questo non voglio dire che in Francia non si mangi... Potremmo organizzare un tour che vengono in Italia, vedono le bellezze e poi li portiamo a mangiare in Francia con il Ministro Buitoni. Fra l'altro la cucina francese è una cucina completamente diversa, molto elaborata, la cucina italiana si può mangiare lo stesso piatto mattina, pomeriggio, sera, il giorno dopo e non fa male, la cucina francese così carica di grassi, così elaborata, certamente può essere una cucina elitaria, ma non è la cucina di tutti i giorni. Quali sono le priorità che questo governo dovrebbe darsi? Noi abbiamo un contenitore, quello italiano, italiano che è il più grande museo esistente, abbiamo possibilità di costa e di posti dal punto di vista del turismo, un'offerta turistica ineguagliabile. La montagna, non solo il mare, ma anche la montagna. Ineguagliabile. Dovremmo fare una politica attenta a rilanciare il turismo e i beni culturali. Ma è una cosa incredibile. E parlo a un operatore del turismo anche, no? Certamente. Noi eravamo subito dopo gli Stati Uniti, non tanto per bellezza ma per grandezza, secondi, e siamo ormai sprofondati al settimo, ottavo posto, credo, nella graduatoria del movimento turistico internazionale. Ma, ripeto, con l'aggravante che noi abbiamo oltre il 60% dei beni del mondo, una serie di... Cioè basta girare in qualsiasi nostra città e alzare gli occhi, c'è da fotografare o da ammirare un qualcosa. Non parliamo soltanto di Roma, Firenze, Venezia, Napoli o Palermo, ma parliamo di tutte le città italiane, anche i siti più reconditi, anche i paesini arroccati su qualche montagna o su qualche collina. La politica del turismo... Si è sempre detto che l'Italia doveva puntare sul turismo, anzi agricoltura e turismo dovevano essere le due componenti essenziali. Noi con l'agricoltura compriamo la gran parte delle derrate all'estero e per il turismo invece ci limitiamo. Io ho vissuto dei momenti drammatici, ho fatto anche delle interrogazioni parlamentari sullo stato della reggia di Caserta, dove rimasi colpito da una trasmissione dell'estate scorsa in cui si diceva che i Vucumpra avevano aggredito la scalinata del Van Vitelli con le loro mercanzie, con le loro bancarelle, che nell'atrio della reggia giravano le automobili di tutti coloro che avevano gli uffici sparsi nella reggia stessa, che la fontana non funzionava perché l'acqua era rubata a monte e quindi l'avevano chiusa e che la chicca della reggia che era il teatro non poteva essere visitato per mancanza di personale, mentre la sovrintendenza di Caserta ha 150 commessi. Quindi questo è emblematico dello stato della proposta e della messa a disposizione del fruttore e quindi del turista delle bellezze italiane, non parliamo di Pompei, non parliamo di una serie di altre realtà che dovrebbero costituire l'emblema. Ma volevo dire, quello che ha detto la Buitoni poi tra l'altro contrasta con quello che un altro grande operatore Farinetti sta facendo, perché Farinetti sta aprendo in Italia e nel mondo degli enormi negozi dove non soltanto si vende italiano, Italy, ma si prova il cibo italiano e stanno avendo un successo incredibile. Allora questo contrasta col fatto che invece il cibo francese, nonostante gli sforzi dello Stato, e lì è lo Stato che agisce in prima persona per la divulgazione di questo fatto, probabilmente questa divulgazione ha colpito soltanto la nostra Vice Ministro Buitoni. Sì, che sembrerebbe che abbia contribuito in campagna elettorale con un contributo di 750 mila Euro al Movimento per Monti e quindi forse questo è stato il modo di ripagare, ma evidentemente c'è stato un errore. Noi comunque aspettiamo le dimissioni dell'Onorevole e la consegna del passaporto al Presidente della Repubblica, perché penso che per molto meno, sia in Italia che negli altri paesi, si sono dimessi i ministri. O almeno un profondo mea culpa e un rimangiarsi, in questo caso parlando di cibo, tutto ciò che ha detto. Approfitto della sua presenza per un altro piccolo flash su un argomento che è importante per la Puglia, Ilva di Taranto. Ilva di Taranto. Non serve un flash, sarebbe una trasmissione. No, in due battute. Possiamo, l'Ilva, sappiamo tutti la storia, è stata presa da Riva senza nessun esborso, perché è stata praticamente comprata con l'onere di fare tutta una serie di adempimenti e di mantenere i livelli occupazionali. è stata utilizzata dal gruppo Riva in tutti questi anni e alla fine ci siamo accorti che questo stabilimento non può più produrre. Cosa fare? Chiudere lo stabilimento e riconvertire l'area o invece investire in maniera pesante per adeguare lo stabilimento a quelli che sono gli standard di natura ambientale che impone la nuova normativa del codice dell'ambiente? Ma io ho un'idea, questo fa parte delle scelte strategiche di grande livello di una nazione. L'Italia aveva questa problematica, ha la problematica della produzione dell'acciaio, la produzione dell'acciaio di un paese non si può eliminare o chiudere da un momento all'altro, il paese si deve riadeguare, le industrie che acquistano, soprattutto quelle italiane che acquistano l'acciaio dall'Ilva di Taranto, devono poter trovare se l'Ilva chiude delle alternative, non si può fare come invece penso si stia facendo colpevolmente dalla sera alla mattina, perché il problema dell'inquinamento dell'Ilva non è che nasce ora, nasce anni e anni e anni dietro, forse la sensibilità nei confronti della problematica oggi è esaltata indubbiamente, però parlavo di scelte strategiche, l'Ilva se si deve chiudere, se non deve più produrre bisogna trovare un'alternativa e io è da anni che parlo della logistica, l'area di Taranto e quindi l'area dell'Ilva potrebbe essere benissimo l'area di arrivo delle merci dalla produzione che ormai avviene in gran parte tutta Oriente, India, Cina e tutti i paesi emergenti da quella parte, passa attraverso Suez, arriva per servire il grande bacino dell'Europa, quindi la piattaforma logistica che l'Italia poteva produrre, questa Italia che è un trampolino nel Mediterraneo e quindi con una serie di servizi, con la dorsale adriatica e non quella tirrenica da potenziare come rete stradale e ferroviaria e anche di corridoio adriatico per le navi, con i porti di Bari e di Brindisi che potevano essere a servire di supporto a quello di Taranto, quindi ben poteva prevedersi di farne di questa una piattaforma logistica europea e naturalmente questo è un discorso che non è che può fare solo l'Italia, bisogna proporlo, bisogna studiarlo, bisogna trovare le alleanze internazionali perché noi abbiamo la concorrenza di Spagna, abbiamo la concorrenza della Francia, di Malta. Quindi riconversione. Una riconversione che però io credo che in questi anni si è parlato soltanto di Berlusconi e contro Berlusconi. Ma certamente non possiamo accettare che lo Stato riprenda lo stabilimento e con i soldi dei cittadini si pensi di riadeguare lo stabilimento. Io credo che una sola cosa ci salva da questa possibilità, perché lo Stato non ha soldi e quindi mi auguro che lo Stato imprenditore, lo Stato abbandoni la volontà di voler fare l'imprenditore. Lo Stato invece dovrebbe programmare e lo avrebbe dovuto già fare da molto tempo, ripeto, non parlando di Berlusconi o contro Berlusconi o a favore di Berlusconi perché di questo dibattito noi abbiamo assistito ormai da troppo tempo, invece lo Stato doveva pensare a uno sviluppo di questo genere, a una riconversione di questo genere per un'area importante non solo per l'Italia ma anche per l'Europa. Bene, grazie a voi, grazie all'Onorevole che ci ha accompagnato in questo incontro. Ci vediamo la prossima volta.